Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete autostradale della Toscana. Sul raccordo Siena-Firenze per lavori scambio di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per la A1 di Firenze in Prunita. Sulla regionale 69 Valdarno, senso unico alternato per lavori, al chilometro 1,700 nel comune di Pelago. La viabilità cittadina a Firenze, via Palazzuolo, chiusa per lavori tra via Benedetta e via De Canacci. Chiudiamo con i treni fino alle 21 di stasera, sciopero del personale con modifiche al servizio, non sono previste fasce di garanzia. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Buon viaggio!